Una persona che guarda avanti, secondo me, deve fare di tutto pur di realizzare il proprio sogno. Una persona attenta. Una persona che penso sempre positivo. Ottimista. Che non si distrae. Che pensa al futuro. Che cerca di dare tutto se stesso. Colui che riesce a raggiungere il proprio scopo nella vita. Riesce a scogliersi da un suo punto di riferimento. Una persona che tiene comunque alla sua sicurezza. Al concentrato. Una persona che affronta il futuro. Non si ferma davanti alle apparenze. Di avere una mentalità aperta. Aspettate. Uno che guarda avanti è uno che è sempre attento. Di fronte alle difficoltà non è che si ferma lì. Avendo certi problemi casca, però riesce a rialzarsi ancora più forte di prima. Guarda avanti. Guarda avanti.